Nel carcere Terramano di Castronio, gli agenti di Polizia Penitenziaria hanno effettuato un maxi-controllo che ha portato al sequestro di nove telefonini nascosti nelle celle. Durante l'operazione sono stati trovati anche piccoli quantitativi di droga. Giuseppe Pallini, segretario provinciale del SAP, il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, ha espresso in una nota il suo grande apprezzamento per l'operazione effettuata dai Baschi Azzurri, che anche in momenti di grande difficoltà dimostrano la professionalità e l'unità del gruppo. Giuseppe Nino, segretario regionale del SAP, ha evidenziato nuovamente le criticità operative del personale di Polizia in relazione all'alta concentrazione di detenuti psichiatrici e tossicodipendenti. Dai dati in nostro possesso scrive sappiamo che quasi il 30% delle persone italiane e straniere detenute in Italia, ossia uno su tre, ha problemi di droga. Per chiarezza va ricordato che le persone tossicodipendenti o alcol dipendenti all'interno delle carceri sono presenti per aver commesso vari tipi di reati e non per le condizioni di tossicodipendenza. La loro presenza comporta da sempre notevoli problemi sia per la gestione di queste persone all'interno di un ambiente di per sé così problematico, sia per la complessità che la cura di tale stato di malattia comporta. Non vi è dubbio che chi è affetto da tale condizione patologica debba o possa trovare opportune cure al di fuori del carcere e che esistano da tempo dispositivi di legge che permettono di poter realizzare tale intervento.